Ciao ragazzi, bentornati a Puggini On Air. Finalmente ci era mancato un sacco, non aveva fatto più parlare di sé e ci stavamo domandando appunto che fine avesse fatto. È Fabio Rovazzi che torna con un nuovo singolo dal 3 gennaio, dal titolo Niente è per sempre. Ora ne parliamo qui a Puggini On Air nei nostri approfondimenti sul nostro canale YouTube e vi ringrazio perché siete sempre più numerosi coloro che ci seguono in radio o qui sul nostro canale. Per cui vi invito ad iscrivervi, noi qui in redazione ci siamo già iscritti e iscrivetevi anche voi. Invitate anche i vostri amici, parenti, followers ad iscrivervi, insomma non è facile, iscrivervi al nostro canale. Ma a parte questa doverosa parentesi, poi ne approfittiamo tutti noi per augurarvi buone feste dato che siamo al 23 dicembre e poi in radio vi faremo gli auguri con mille colonne sonore del Natale. Ma ora parliamo di Rovazzi perché avete cliccato su questo nostro video di approfondimento proprio per lui e il regia mi dicono di tagliare corto giustamente. Negli ultimi due giorni delle immagini apparentemente senza senso, come se l'improvviso Rovazzi avesse iniziato a postare delle foto di personaggi che gli stavano simpatici, senza un motivo preciso, hanno iniziato a comparire tutte queste immagini sul profilo Instagram di Fabio Rovazzi di colpo senza nessun preavviso né di dascalie a spiegare nulla. E' stata questa la strategia di Fabio Rovazzi. Allora, ora io ve le dico tutte nell'ordine. Abbiamo visto comparire, altrimenti che approfondimento è, dici due stronzate? No, approfondiamo come si deve. Abbiamo visto nel profilo Instagram di Rovazzi comparire la compianta signora in giallo. Una foto del matrimonio di Francesco Totti e Ilari Blasi. Quindi già qui non ci capivamo nulla, no? Che cosa c'entrano fra di loro già queste due. Poi, una foto di una vecchia cabina telefonica della Telecom. Una iPod. Albano e Romina vincitori del Festival di Sanremo 1984. L'elenco telefonico, tra le pagine gialle. I Daft Punk. Gli Spinner, in voga qualche tempo tra i giovani. Qualche tempo fa tra i giovani. E poi Johnny Depp, ancora in coppia con Amber. Il logo dello Speed al centro dei discorsi politici degli ultimi giorni. La doppia compilation blu e rossa del Festival Bar. Achille Lauro e Boss Doms sul palco di Sanremo. Il pilota della Ferrari. Kim Kardashian e Kenny West. Scusate la mia pronuncia, ormai mi conoscete. Poi, la foto dei banchi di scuola con le rotelle. La foto di un orso polare. I One Direction. Le cannucce per le bibite. E il compianto Alberto Angela. Insomma, una serie di foto tra passato, presente e futuro. No, passato e presente. Con effetto nostalgia e uno sguardo a delle persone che non ci sono più. O a grandi coppie che si sono separate. Quindi, nel mezzo poi, uno scatto che ritrae Rovazzi con il suo primo talent scout, Fedez. Entrambi vestiti da bambine, con abitino blu e nel caso di Fabio le trecce. Come è noto, i due artisti litigarono, si sciolsero anni fa. Solo nell'ultimo anno si sono riappacificati. Fedez ultimamente ha voluto cambiare approccio. Ha ricucito tanti rapporti che si erano interrotti da quello con G-AX a Gali. E anche questa immagine per molti faceva presagire magari un featuring. Quindi una collaborazione, una nuova collaborazione con Fedez. In realtà si collocava esattamente nel concetto di coppie che scoppiano. Tra cui anche loro due sono state una coppia scoppiata. Quindi, niente, è per sempre. Questo è il titolo e sicuramente quindi anche il tema che con queste foto ha voluto sottolineare Rovazzi. Quindi ci aspettiamo qualcosa, non so, di emozionante, di intenso, di profondo oppure qualcosa di leggero, una nuova hit. Non lo so, vediamo. Comunque, la cosa particolare anche è che esce il 3 gennaio. Esce all'inizio dell'anno un singolo che parla della fine, praticamente. La fine dei rapporti, la fine della vita, forse delle persone, perché avendo condiviso anche le foto di persone che non ci sono più. Quindi, niente, è per sempre, sicuramente parlerà. E sulla copertina, cioè la cover, scusate, del CD, c'è, a parte la scritta Fabio Rovazzi, niente, è per sempre, c'è l'elmo di un soldato romano in mezzo a un campo d'erba, insomma, lasciato tipo abbandonato, rimasto lì. Quindi, anche questo, anche l'impero romano è finito. Quindi, va bene, quindi interessante. L'ultimo singolo di Rovazzi era La mia felicità, Fit Eros Ramazzotti, che è uscito nell'estate del 2021. Per cui sono passati già due anni, due anni e Fabio Rovazzi non si era più fatto sentire con i suoi singoli, con le sue hit. Allora, siamo molto curiosi di ascoltarlo. Poi, nei commenti di questo video, ditemi la vostra, diteci cosa ne pensate del singolo, una volta che lo ascolteremo insieme, anche sulla nostra radio. Per cui, io vi do appuntamento al prossimo episodio di Puggini On Air, al prossimo approfondimento qui sul nostro canale YouTube. Quindi, vi ricordo, voi seguiteci, iscrivetevi, iscrivetevi, insomma, ragazzi non mi riesce, non so cosa fare. E vi auguro buone feste, tanto noi continueremo sempre ad aggiornarvi costantemente, anche durante le feste, perché noi non ci fermiamo mai, la musica non si ferma mai. Anzi, durante le feste la musica, no? Ce n'è tanta, forse molta di più nella vita delle persone rispetto ai giorni normali. Quindi, mi raccomando, scegliete sempre buona musica, preferite sempre la musica che vi emoziona, quella che vi fa muovere il culo. Poi quella che vi fa muovere il culo c'è sempre tempo, insomma, c'è tutta la notte, però ogni tanto dedicate un po' di spazio all'ascolto dei cantatori, all'ascolto di coloro che nelle canzoni, oltre a fare delle hit, a far appunto muovere, scusate l'ho detto volgarmente, la parte inferiore del corpo, ma non solo anche le braccia, eccetera, a volte possono anche esprimere dei bellissimi sentimenti ed emozionarci e il Natale c'è un po' quella magia del mondo, dello spettacolo, e forse è un po' il mondo dello spettacolo che viene utilizzato dalla realtà per rendere la realtà un po' meno triste, in un certo senso. Però con la stessa emozione del Natale le possiamo rivivere quando vogliamo, basta andare in un teatro, basta ascoltare un concerto. Quindi con questi sentimenti positivi vi auguro davvero, anche se ci ascolteremo ancora nei prossimi giorni, essendo all'ante vigilia, quasi fra tre ore alla vigilia di Natale, vi auguro buone feste e un buon anno nuovo, non ve lo auguro perché sicuramente ci riascolteremo molto prima.